Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Maria Chiara e qui si parla di libri, libri che leggo, libri che scrivo, libri che vorrei comprare, libri a 360 gradi ed è direttamente collegato col mio book blog L'arte dello scrivere forse che potete trovare su Tumblr. Vi lascio il link qui sotto nell'info box come sempre dove troverete anche i link ai libri di cui parlerò in questo video. Oggi due cose, allora prima di tutto voglio chiedervi se per Natale o meglio per le fette di Natale quest'anno vi interesserebbe una serie di video dedicati ai libri con i viaggi del tempo. È un argomento talmente ampio dove vi dovrei parlare di talmente tanti libri che ci vorrebbe una serie di video per poterlo approfondire in modo degno, un minimo, però lo farò solo se qualcuno mi dirà che gli interessa perché potrebbe essere anche un po' troppo pesante avere tutti i video che parlano di viaggi nel tempo. Per me è un tema che secondo me con le feste di Natale ci può stare, però non so se è la stessa cosa per voi, fatemi sapere. Seconda cosa, questo invece è un video dedicato a un libro che ho appena letto di una nuova serie inedita in italiano, purtroppo. Però ve ne voglio parlare. Allora, il libro di cui vi voglio parlare oggi è Only Bad Option. L'idea dell'autrice Jennifer Step, che è un'autrice che io da un pochino seguo. Ho iniziato a seguirla quando ha iniziato a scrivere Urban Fantasy e in effetti l'ho conosciuta con la sua serie Elemental Assassin che conta ben più o meno 18 libri senza contare i libri brevi, i racconti eccetera. Però è una serie piuttosto lunga, già conclusa, che partiva in modo interessante. Era ambientata in un mondo in cui esistono delle famiglie potenti che praticamente governano il paese e che ognuna di queste famiglie ha il potere legato a un elemento. Fuoco, terra, acqua eccetera. Dopo ci sono anche dei poteri minori, dei poteri collegati con altre capacità, comunque sono sempre più o meno poteri elementali. Ad esempio, la protagonista ha un'affinità con la pietra e con il ghiaccio. Quindi ci possono anche essere dei doppi poteri. Uno ha un potere prevalente, ma magari ne ha uno secondario o meno potente. Lei fa parte di una famosa famiglia che era tenutaria del potere sul ghiaccio e quindi era sempre stata abbastanza nemica con una famosa famiglia che aveva il potere fuoco, naturalmente. Dopo, insomma, la sua famiglia è stata sterminata. Lei è andata, si è creata un'identità segreta, agisce segretamente come un'assassina chiamata Spider, ma in realtà è un po' tipo il Robin Hood di No Altri, perché comunque agisce per le persone deboli che non possono proteggersi da queste famiglie potenti, dotate della magia elementale che spadroneggiano su tutto e tutti, fregandosene di ogni legge. Quindi è un po' un Robin Hood, un po' un Batman, se fosse più vicino a Batman. Ha i suoi amici che con lei l'aiutano, ha qualche problema in famiglia, poi avrà anche un fidanzato che anche lì non si sa se è alleato con lei o è alleato contro di lei. Insomma, poi ci sarà il cattivone della serie che naturalmente è un elementale del fuoco collegato con la strage della sua famiglia. Insomma, ha un po' più che un urban fantasy classico, quella serie aveva proprio il sentore di un fumetto Marvel, come Iron First o Spider-Man o Batman appunto, c'era molto il sentore di una Gotham, di una città profondamente corrotta, aveva molto 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 quel vibe. E questa autrice Jennifer Step si è dedicata molto a romanzi con i supereroi, con persone con poteri magici di un certo tipo, ma ha molto molto stile supereroi Marvel. Molte sue serie hanno questa caratteristica, che non è una caratteristica che io sempre apprezzo, sinceramente. Quindi, dopo aver letto i primi 4-5 libri della serie Elemental Assassin, io un po' mi ero stufata, e l'ha un po' dimenticata questa autrice, poi che nel frattempo ha scritto di tutto e di più, Yangadut, ambientati in ambiente scolastico, magico, dei fantasy, più fantasy puri, insomma, un po' di tutto. Finché quest'anno era un suo libro tra i preferiti, non mi ricordo se di Ilona Andrews o Nalini Singh. Comunque, una di queste due autrici che io seguo sempre, invece, suggeriva il suo ultimo libro, che appunto era Only Bad Option, e l'ho detto, ma dai, sono tanti anni che non la leggo più, dal 2010, dal 2012, più o meno, diamole una seconda possibilità, perché questa serie è un po' fantascientifica, romance, paranormal romance, quindi è una roba che sembra totalmente diversa da quello suo che ho letto precedentemente, e in effetti lo è. E anche come stile, devo dire, che in tutti questi anni è evoluta in modo molto diverso, e scrive in modo del tutto diverso. Cioè, se io non avessi saputo che Only Bad Option era suo, non l'avrei mai detto, perché scrive in uno stile molto molto diverso da quello che ho usato nella serie Elemental Assassin, e molto molto simile invece allo stile di Ilona Andrews, che è un'autrice che a me piace. Allora, Only Bad Option è il primo libro di una nuova serie di Jennifer Steff, ed è veramente un libro molto molto carino, che mi è piaciuto molto. È un peccato che sia inedito in italiano, ma magari in futuro questa cosa cambierà. Di cosa parla? Allora, prima di tutto il titolo è una frase che viene ripetuta alcune volte all'interno del libro, perché la protagonista ha imparato durante la sua vita che in molte occasioni tu non hai veramente una gran scelta, ma hai solo delle brutte opzioni. Cioè, tra le varie scelte che puoi fare, tutte sono pessime, ma non puoi fare nient'altro. Quindi, in realtà, la potremmo tradurre in se la vita ti dà delle brutte carte da giocare, tu puoi giocarti solo delle brutte carte. Quindi non è sempre colpa tua se le cose vanno male. E la protagonista, che si chiama Vesper Quill, nella vita ne ha avute di brutte carte, a partire dal fatto che sua madre l'ha abbandonata quando era piccola, l'ha lasciata con una cugina, che dopo l'ha fatta entrare subito in un'accademia. Quindi diciamo che questo abbandono l'ha segnata parecchio. Ma prima di tutto sarà il caso di presentare l'universo in cui è ambientato questo libro. Allora, l'universo in cui è ambientato questo libro viene chiamato Arcipelago Galaxy. Che mi fa venire in mente il cartone Galaxy Express, ma non c'entra niente. Comunque, l'Arcipelago Galaxy è, possiamo dire, governato da tre forze. C'è l'Imperium, che è costituito da diversi pianeti e che è governato da una specie di re, una specie di imperatore, che è Lord Callus Holloway, supportato da delle famiglie nobili che si chiamano Regali. E queste famiglie hanno dei poteri magici. Poi c'è invece, ci sono invece dei pianeti che insieme costituiscono la Tech Wave, una specie di nazione collettiva di questi pianeti che invece si basa sulla tecnologia, molto molto avanzata, unita comunque alla genetica. Perché se i regali sfruttano la genetica per passarsi di generazione in generazione i poteri magici, la Tech Wave sfrutta la genetica per unirla alla nanotecnologia e diciamo sono famosi, tra virgolette, per creare degli ibridi, specie di cyborg, ma cose abbastanza mostruose. E poi c'è una terza forza che sono gli Hearthstone. Gli Hearthstone sono una forza molto più piccola che si dichiara neutrale mentre l'Imperium e la Tech Wave sono in guerra da anni. Gli Hearthstone, che hanno solo un tot di pianeti sotto la loro egemonia, si dichiarano neutrali e intanto commerciano in minerali con tutte le altre fazioni e anche con delle forze all'esterno dell'arcipelago galaxy. Allora, anche se come vi dicevo diciamo che la Tech Wave, i pianeti della Tech Wave e i pianeti dell'Imperium sono in lotta da anni per la supremazia su questo arcipelago, la realtà è che tutto andava abbastanza bene fino a non tantissimi anni prima di quando cominciai il libro. Adesso veramente la Tech Wave comincia a minare veramente la potenza dell'Impero e lo fa in modo anarchico. Sembra che goda nel distruggere degli avamposti dell'Impero anche degli avamposti soprattutto industriali dove l'Impero crea le sue astronavi, i suoi jet, le sue armi, eccetera, le sue tecnologie e lì prende di mira e durante il caos che causa con questi attacchi terroristici ne approfitta anche per rubare dei segreti tecnologici all'Impero. Ma perché questa cosa sta escalando negli ultimi anni? Allora, durante il libro scopriremo che praticamente negli ultimi anni i poteri magici delle famiglie regali dell'Imperium sono un pochino calati e non si capisce bene il perché anche se alla fine del libro un sospettuccio ce l'avremo e la Tech Wave ne sta anche approfittando così come sta approfittando del fatto che alcuni regali proprio per questo problema che la loro linea di sangue sta perdendo i problemi e quindi temono di finire vittime di Lord Callus o comunque di perdere il loro potere all'interno dell'Impero si stanno alleando addirittura con la Tech Wave e diciamo che certo, tradire il proprio paese tradire la propria nazione non è il massimo però è anche vero che Lord Callus scopriremo sempre all'interno del libro non è una gran brava persona e tra l'altro il suo potere ci sono diversi tipi di poteri magici non tantissimi saranno esplorati all'interno del libro che tra l'altro è comunque solo il primo di una serie ma Lord Callus ha uno dei poteri più temuti che è il potere di succhiare i poteri magici alle altre persone succhiando anche la loro forza vitale insomma ha più o meno lo stesso tipo di potere di Rogue dei mutanti della Marvel però è in peggio cioè diciamo che se Rogue poteva succhiare i poteri degli altri e utilizzarli lui non li può esattamente utilizzare si limita a succhiare questi poteri e la linfa vitale di questi altri regali e questo ingrandisce il suo stesso potere ma è anche un tipo di potere suo che crea dipendenza e ha una specie di prezzo da pagare cioè quando lui succhia questi poteri diciamo che paga anche le conseguenze di essere una specie di enorme sanguissuga se così si può dire esiste un unico tipo di potere che non ha questo prezzo da pagare ed è il potere di un vero legame allora cos'è un vero legame? allora praticamente la leggenda vuole che esistano delle coppie predestinate all'interno delle persone con poteri magici e che se queste due persone si incontrano formeranno un vero legame che gli permetterà di accrescere i propri poteri magici e praticamente diventeranno simbiontiche in un certo senso quindi l'uno potrà sfruttare i poteri dell'altro ma non succhiandogli la linfa vitale sarà uno scambio circolare senza perdita di alcun potere solo aumento inoltre diciamo che se uno dei due verrà ferito anche l'altro sarà ferito se uno dei due muore forse anche l'altro rischia di morire ma non è detto che sia così ma allo stesso modo se uno subisce una ferita grave la forza vitale dell'altro può sostenerlo finché questo non sarà curato quindi diciamo questo vero legame sì è un potere molto forte che ha molti punti a favore ok però ha anche dei punti a sfavore perché comunque come vi dicevo se uno viene ferito viene ferito anche l'altro o comunque soffre il dolore che sta soffrendo l'altro e soprattutto stare separati per queste due persone legate da un vero legame è molto 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 doloroso soprattutto se con questo vero legame si unisce anche un amore sentimentale cosa che non è detta comunque questo comunque vero legame è sempre più raro man mano che le famiglie stanno perdendo i loro poteri magici ma è anche vero che il Lord Callus da anni sta dando la caccia a tutte le coppie col vero legame perché il vero legame è uno dei pochi poteri da cui lui può succhiare indefinitivamente potere senza soffrire di crisi di astinenza senza soffrire dolore senza perdita del temporanea dei suoi poteri quindi gli ha dato la caccia e quindi sono sempre diventate più rare anche per questo l'ultima coppia a cui ha succhiato i poteri causando la morte della moglie all'interno di questa coppia sono i genitori del protagonista maschile del libro che è Cirion Caldaren e diciamo che lui quindi ha visto morire sua madre per colpa di Lord Callus senza poter fare niente Lord Callus lo tiene d'occhio perché pensa che lui essendo figlio di due di una coppia col vero legame sia geneticamente portato a creare un vero legame con qualcuno e nel frattempo lo costringe anche ad essere una delle sue frecce una delle sue arrows quindi a far parte della sua forza militare di elite grazie ai suoi poteri perché Kirion ha molto potere e ha un potere tipo empatico telecinetico una roba del genere comunque riesce a spostare gli oggetti con la mente e riesce anche a mettersi in contatto mentale con alcune persone più o meno questo è il suo potere inoltre è anche militarmente addestrato ed è un pochino il sicario quindi che Lord Callus sfrutta e Kirion lo sa ordia Lord Callus ma Lord Callus ha talmente tanto potere che non riesce a contrastarlo almeno finché non entrerà nella sua vita Vesper Vesper invece come vi dicevo non fa parte ufficialmente dei regali ma vive nell'imperium sua madre faceva parte di una famiglia di regali che però negli anni ha perso sempre di più i suoi poteri sua madre all'inizio aveva abbastanza potere per poter far parte dell'elite ma poi con gli anni lo ha perso ed è stata cacciata dall'elite però prima che venisse cacciata dal pianeta principale dei regali è rimasta incinta di Vesper e sperava che siccome era frutto di una liuzon con un altro regale di cui Vesper non sa l'identità sua madre sperava che lei avesse abbastanza potere da riportarla sul pianeta dei regali invece così non è stato Vesper quando ha raggiunto l'età per essere testata per i suoi poteri non aveva abbastanza potere per rientrare nell'elite quindi sua madre ha deciso di abbandonarla e è tornata sul pianeta dei regali sposando un vedo con un sacco di figli e da lì in poi sua madre che diciamo non è proprio la persona più amorevole gentile buona generosa di questo mondo ha avuto tre mariti che sono tutti misteriosamente morti e lei ha fatto una scalata sociale all'interno dell'impero così nel frattempo Vesper comunque come vi dicevo ha sofferto dell'abbandono di sua madre però grazie a sua zia ha potuto studiare in un'accademia e ha un potere che è molto utile lei è una lei è quella che potremmo definire una veggente ma una veggente di un tipo un po' strano praticamente il suo potere di preveggenza le permette di vedere come funzionano le cose quindi alla fine è finita per lavorare in una industria come topo di laboratorio quindi come inventrice potremmo dire o comunque per migliorare degli oggetti tecnologici creati da una industria capitanata da una delle famiglie di regali su uno dei pianeti dell'imperium ed è brava a farlo è bravissima perché lei vede proprio grazie al suo potere come funzionano le cose tecnologiche e come migliorarle invece il suo potere funziona purtroppo meno bene quando si tratta di capire le scelte che dovrebbe fare cioè non è che il suo potere di preveggenza l'aiuta molto in questo anzi quasi mai però ha dei sogni strani ha dei sogni strani e soprattutto ha una specie di sogno particolare dove lei entra in un ambiente che poi scoprirà essere un ambiente tipico un ambiente mentale che hanno tutti i veggenti dove possono controllare meglio il loro potere questo ambiente per lei si manifesta come un castello pieno di porte e dietro a queste porte ci sono i suoi ricordi quindi immagini dal suo passato immagini dal suo presente e suppone che ci siano anche porte che la potrebbero condurre al suo futuro però non è ancora in grado di aprirle tutte e non sa ancora bene come utilizzare questo ambiente questo suo potere anzi all'inizio del libro non sa nemmeno cosa sia questo ambiente realmente lo scoprirà più avanti e riuscirà a sfruttarne i poteri ma il libro comincia in un momento in cui lei proprio ha davanti a sé tutte delle cattive opzioni o delle brutte carte da giocare perché è appena stata mollata dal suo ragazzo che in realtà le rubava le idee per le invenzioni e soprattutto ha scoperto che uno dei jet che la sua industria sta producendo ha un grave difetto tecnologico che ha già causato un grave incidente in cui sono morte tantissime persone precipitando a terra e schiantandosi e vuole evitare che questo si ripeta ma nessuno la vuole ascoltare quando dice che questi jet hanno qualcosa che non va quindi è arrivato al punto di dover rubare i progetti di questo jet e darli a un giornalista che pubblicherà questa cosa pubblicamente in modo che i jet non possano venire utilizzati perché altrimenti molta gente rischierebbe di morire ma qual è la verità dietro a tutto questo la verità che Vesper all'inizio del libro non sa è che questi jet sono già stati comprati dall'impero dall'imperium per essere usati militarmente e questo difetto è voluto dalla famiglia di regali a capo di questa industria perché questa famiglia di regali si è alleata con la Tecno Wave appunto per minare il potere di Lord Callus privandolo delle sue forze militari di elite che viaggeranno appunto su questi jet quindi il fatto che Vesper voglia denunciare questa cosa non gli va proprio giù loro non sanno che lei ha rubato questi progetti e li ha nascosti in due posti in un microchip che si è messa sull'unghia perché è veramente molto molto piccolo e lo ha coperto con un brillantino e poi si è data su lo smalto quindi sembra che lei abbia semplicemente lo smalto con dei brillantini sulle unghie in realtà sotto uno di questi brillantini c'è il microchip e questo se ne va con lei quando uscirà dal laboratorio mentre uno lo nasconde in un giocattolo a forma di jet che tiene in laboratorio perché ammetti che vada male qualcosa almeno ha una copia di riserva ma prima che lei possa uscire dal laboratorio dopo aver scaricato i dati in questi due microchip e averli nascosti viene convocata proprio dai grandi capi che hanno visto il suo report la sua relazione sull'incidente e le vogliono chiudere la bocca anche se non sanno che lei vuole denunciarli e purtroppo gliela chiudono in modo violento la fanno pestare e quando lei si risveglia si trova su un cargo militare come proscritta cioè non l'hanno uccisa loro non si vogliono sporcare le mani l'hanno proscritta all'interno dei militari e sarà carne di macello che verrà scaricata sul pianeta dove questi militari stanno per andare a fare la guerra ai technowave che hanno attaccato un altro loro pianeta sarà praticamente la fanteria i primi che verranno gettati nella mischia saranno sicuramente uccisi dai technowave intanto che le forze di assalto più dell'it possano avere il tempo di rendersi conto di come sono posizionati i technowave sul terreno e agire di conseguenza quindi sono tipo degli agnelli sacrificali questi poveri coscritti in più le hanno dato anche una droga che le impedisce di parlar le hanno messo sotto cute un chip una roba del genere lei riesce a toglierselo ma anche parlando sa che nessuno le crederà nessuno sa chi è a nessuno interessa quello che sa anche se tentasse di fuggire non può quindi la sua unica opzione ancora in questo caso non è bellissima ma è cercare di sopravvivere alla battaglia imminente e da lì cercare di fuggire e cercare di mettersi in contatto con questo giornalista perché ha il chip sotto l'unghia e ce l'ha ancora il problema è che deve rimanere viva si accorge che i capi di questa squadra di assalto che sta per arrivare su questo pianeta sono proprio le Arro l'elite militare di Lord Callus e tra loro c'è il protagonista maschile del libro Tyrion che è la più temuta delle Arro e quella che fa più paura l'assassino dei nobili viene chiamato e però Vespera è talmente oltre la disperazione con tutto quello che è successo in un unico giorno che non ha neanche il tempo di aver paura di Tyrion lei deve sopravvivere e basta durante la battaglia per fortuna il suo potere di veggenza sembra scuotersi un attimo e la aiuta nel capire quali sono le opzioni migliori in quel caos che sta vivendo e l'opzione migliore che le si illumina alla vista è seguire Tyrion perché dove lui va fa piazza pulita quindi se lo segue probabilmente riuscirà a sopravvivere a questa battaglia il problema è che qualcuno proprio durante questa battaglia cerca di uccidere Tyrion con un'arma strana potente nuova che nessuno aveva mai visto e quindi Vesper deve salvarlo se vuole salvare se stessa e ci riesce in parte e i due scappano su una navicella che lei riesce sempre a trovare grazie al suo potere di veggenza e scappano appena in tempo quando però sono da soli su questa navicella Tyrion si rende conto di una cosa orribile e cioè che tra lui e Vesper sta nascendo un vero legame perché dove lei è ferita lui ha male e dove lui è stato ferito anche lei ha male e pensa quindi che lei sia stata mandata da qualcuno proprio con l'intento di fargli credere che loro siano in un vero legame perché in realtà esistono delle droghe che ti possono far provare un vero legame per alcune ore però dopo quando svaniscono tutto finisce e lui pensa che quindi lei lo abbia drogato con queste droghe non si sa quando perché non è che lei ne abbia avuto una gran occasione ma lui non pensa in modo molto lucido perché ha proprio un terrore di questo vero legame per colpa di Lord Callus e di quello che è successo ai suoi genitori di cui non vi racconto tutto perché la sua triste storia ve la risparmio dovrete leggere il libro per conoscerla e quindi la accusa e tenta di ucciderla lei riesce a difendersi come può riesce a sopravvivere e gli dice che non è affatto vero lei non è stata ingaggiata da nessuno e se veramente si sta creando questo vero legame non lo vuole nemmeno lei ok all'inizio lui non le crede poi vengono assaltati da quelli che cercano lei vespera ancora per il fatto che sa dei jet malfunzionanti e lui li uccide quindi capisce che comunque lei anche lei è in una situazione di emergenza quindi è difficile che stia mettendo in alto un piano per qualcun altro i due si alleano lei gli dice quello che sa dei jet quindi capirete si creerà questa alleanza i due passeranno più tempo assieme il loro legame purtroppo anche se loro cercheranno di mantenere le distanze proprio per non farlo crescere crescerà e questo li metterà in pericolo a causa di Lord Calus ma sono già in pericolo per altre forze perché c'è qualcuno che sta cercando di uccidere lui e c'è anche qualcuno che sta cercando di uccidere lei per motivi diversi non vi svelo alto della trama del libro vi ho detto anche troppo probabilmente comunque come vi dicevo al suo interno essendo il primo libro di una serie si delinea una futura storia d'amore probabilmente tra Vesper e Kirion ma in realtà non succede niente tra i due in questo libro nemmeno si baciano ve lo dico chiaro e tondo però diciamo che il mistero su il malfunzionamento dei Jett e su chi ha tentato di uccidere Kirion in questa speciale circostanza tutti e due questi misteri vengono risolti alla fine del libro quindi comunque la trama principale del libro viene risolta all'interno del libro stesso quindi non finisce con un cliffhanger enorme però comunque il cliffhanger c'è perché il legame tra loro due ad un certo punto sembra quasi spezzato ma in realtà non lo è ed entrambi comunque sanno del pericolo che costituisce Lord Callus quindi la questione non è chiusa e torneremo a vederli nel secondo libro che però probabilmente uscirà tra un anno quindi io come al solito comincio delle serie senza speranza di poterla finire a breve come sempre però il libro devo dire mi è piaciuto molto veramente molto mi ha ricordato molto la serie Hidden Legacy di Ilona Andrews la prima trilogia di di questa serie sia come stile sia come scrittura molto veramente molto il libro mi è piaciuto purtroppo come vi dicevo è inedito in italiano però se potete leggere in inglese io personalmente ve lo consiglio tenendo comunque conto del fatto anche che è il primo di una serie che non sappiamo nemmeno da quanti libri sarà composta quindi è veramente leggerlo è tipo fare un salto nel buio però se vi fidate potete farlo qui si chiude il video di oggi se vi è piaciuto mi raccomando cliccate mi piace qui sotto nell'info box e iscrivetevi al mio canale per farlo crescere e sempre vi auguro buona lettura grazie